Le mani della criminalità organizzata sulle scommesse illecite online. 68 gli arresti tra Catania, Reggio Calabria e Bari, le indagini coordinate dalle rispettive procure. La polizia di Adrano ha arrestato un 26enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era noto alle forze dell'ordine. Diritti, società ed innovazione, questi temi su cui si è discusso questo pomeriggio a Palazzo Lessi durante una conferenza organizzata dalla FIDAPA di Paternò. Tre giorni dedicati all'artigianato e alle tradizioni locali. Scena venerdì, sabato e domenica prossimi sarà l'Arci Festa dell'Artigianato organizzata dall'Associazione Enosis con il patroginio della Comune di Paternò. Sabato e domenica ad Adrano due distinte iniziative di tutela ambientale al Meetup 5.1 Adrano è stata affidata all'area verde di Piazza Alcidio dei Gasperi nell'ambito del progetto adotto a un'aiuola. Sabato l'inaugurazione. A Bronte consegnati alla ditta giudicataria i lavori del polo sportivo di Via Dalmazzi avrà 530 giorni di tempo per completare l'impianto dove sarà possibile disputare incontri di calcio, tennis e volley. Buonasera e ben trovati dalla redazione di Ciac News. Attenzione, proteste, cartelli con su scritto tirate fuori soldi in dialetto siciliano. La seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Catania sul dissesto finanziario è stata sospesa all'evento nel momento in cui alcuni degli attivisti che stavano escenando una manifestazione di protesta al Duomo sono riusciti a entrare nella sala al primo piano di Palazzo degli Elefanti con in mano i cartelli. La sospensione è durata circa 10 minuti, giusto il tempo per riportare un minimo di calma all'interno della sala consigliare e poi i lavori sono riprediti dal punto in cui erano stati interrotti. E le mani della criminalità organizzata sulle scommesse illecite online. Nel 68 gli arresti tra Catania, Reggio Calabria e Bari, le indagini coordinate alle rispettive procure. Sentiamo. Io cerco i nuovi adetti nelle migliori università mondiali e tu hai ancora la ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così, bam bam. Io cerco quelli che vanno così invece, bim bim e clicchessono. E clicchessono? Ma è normale, clicchessono e movimenti extra. A noi servono quelli che cliccano e non quelli che sparano. Questa è una delle tante intercettazioni di esponenti della criminalità sulla gestione illecita delle scommesse online che fruttavano fior di quattrini. Dalle prime luci dell'alba di oggi è in corso un'imponente operazione internazionale di polizia coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo che vede impegnati congiuntamente uomini della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e DIA nella cattura di 68 esponenti della criminalità organizzata pugliese, calabrese e anche siciliane nel sequestro di beni per un miliardo di euro in tutta Italia e numerosi stati esteri. I reati contestati sono tutti riconducibili all'associazione mafiosa, al trasferimento fraudolento di valori, al riciclaggio ed autoriciclaggio, all'illecita raccolta di scommesse online e dalla connessa fraudolenta sottrazione ai prelevi fiscali dei relativi guadagni. L'attività repressiva in corso giunge al termine di complesse indagini delegate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia delle Procure della Repubblica di Bari, Reggio, Calabria e Catania e riguarda gruppi criminali che si erano spartiti e controllavano con modalità mafiose il lucrosissimo mercato della raccolta illecita di scommesse su eventi sportivi e nonne, per un volume di giocate superiore ai 4,5 miliardi di euro su diverse piattaforme online gestite dalle associazioni mafiose. I cospicui guadagni accumulati monitorati dalla Guardia di Finanza venivano poi reinvestiti in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero intestate a persone, fondazioni e società schermati con la complicità di prestanome di comodo. E all'indomani della decisione del GUP di Catania di rinviare a giudizio 7 medici dell'ospedale Cannizzaro i genitori di Valentina Milluzzo, la 32enne, alla 19esima settimana di gravidanza, decedute il 16 ottobre 2016 dopo aver perso con altrettanti aborti, due gemelli che aspettava in seguito a una fecondazione assistita hanno affidato a storie italiane di Elonora Daniele sul Rai 1 e il loro sfogo. Finalmente ha detto mamma Giuseppina dopo due anni la giustizia sta venendo fuori nella mia mente e mi ero fatta un film che arrivati a questo punto mi dicessero abbiamo sbagliato, ti ridiamo Valentina. Purtroppo questo non succede però noi continuiamo la nostra lotta per tutte le valentine del mondo, non deve più succedere una cosa del genere. E andiamo ad Adrano dove la polizia ha arrestato un 26enne del luogo per detenzioni ai fili di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era noto alle forze dell'ordine. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse a cui dovrà rispondere un 26enne di Adrano tratto in arresto dalla polizia del locale commissariato. Il giovane domenica scorsa notato dagli agenti di polizia in via Aurelio Spampinato in pieno centro città è stato invitato a fermarsi ma il 26enne, nonostante venisse chiamato per nome, si è allontanato dalla vista della polizia di corsa, gettando dal borsello che aveva a tracollo due involucri di plastica contenenti una bilancia di precisione della marijuana per un peso complessivo di 18 grammi. La polizia adranita si è quindi recata nell'abitazione del 26enne e dopo averlo rintracciato procedeva ad una perquisizione personale. All'interno del borsello, da dove il ragazzo aveva gettato la sostanza stupefacente, la polizia ha rinvenuto alla somma di 43,70 euro, probabile provento dell'attività illecita di spaccio. Il giovane è stato arrestato e disposto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. E cambiamo argomento, diritti, società ed innovazione, questi temi su cui si è discusso questo pomeriggio a Palazzo Lessi durante una conferenza organizzata dalla FIDAPA di Paternò. E siamo all'interno di Palazzo Lessi dove la FIDAPA, la sezione di Paternò, ha organizzato un importante evento con il tema delle donne, il diritto al voto delle donne. Il tema rientra nel tema nazionale FIDAPA del Bienno 2017-2019, la creatività femminile, la cultura dell'innovazione, motori di diverso sviluppo socio-economico. A parlare con le donne del Consiglio Comunale di Paternò sarà proprio la professoressa Priulla, saggista e scrittrice per l'evento Diritti, società e innovazione appartenere alla Civitas, la lunga marcia del voto delle donne. Noi li abbiamo intervistati, sentiamo. Noi ogni bienne abbiamo un tema nazionale che parla di innovazione per lo sviluppo economico-sociale. Questa sera trattiamo il tema della Civitas come comunità di cittadini che devono essere partecipi della vita politica, sociale ed economica del territorio in cui vivono perché riteniamo che non può esserci nessun avanzamento economico, tecnologico, nessuna innovazione se non abbiamo i diritti. Noi donne rivendichiamo i nostri diritti di persone al pari degli uomini come delle cittadine. Abbiamo fatto questa attività in questo periodo, in questo anno, perché ricorre il centesimo anniversario delle suffragette. Questa sera sono presenti oltre me la presidente del distretto e la vicepresidente nazionale. La presidente di questa sezione è Lella Di Mottea, la vicepresidente è Patrizia Di Stefano. Sarà sicuramente una serata interessante perché tratterà il tema la professoressa sociologa Graziella Priulla. Cosa significa appartenere alla Civitas per una donna? Vorrei che lo spiegassimo bene alle ragazze che mi dicono io non vado a votare, non mi interesso di politica, tutti astensioniste. Io vorrei che stasera ci fossero qui perché capissero quanta fatica, quanto dolore e anche quanto sangue è costato conquistarlo il diritto al voto. E buttarlo via così è veramente una vergogna. Un'importante occasione ancora per parlare di donna che quest'oggi si affronterà il tema importante del voto alle donne anche con le consiglieri comunali di Paternò. Oggi noi affrontiamo una tematica che riguarda la donna, proprio la condizione e il ruolo della donna nella città e il suo ruolo nella società attuale. L'importanza che abbiamo conquistato anni fa di votare e di poter dire la nostra, di far sentire la nostra voce e di dare il nostro contributo attivo per il migliorare questa società attuale e proporre delle soluzioni migliori per accrescere il miglioramento economico, sociale e del nostro, di tutti. Ebbene, adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma l'informazione continua. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili, grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo. Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power, grande offerta d'autunno. Impianto fotovoltaico 3 kW chiave in mano, 3450 euro più IVA 10%. Impianto 4,5 kW più batterie accumulo 4,8 kWh, offerta chiave in mano IVA inclusa a 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie accumulo 5,5 kW, offerta chiave in mano IVA inclusa a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, contrada a Tre Fontane e Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Ed eccoci rientrati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Tre giorni dedicati all'artigianato e alle tradizioni locali. In scena venerdì, sabato e domenica prossimi sarà l'Arci Festa d'Artigianato organizzata dall'associazione Enosis con il patrocino del Comune di Paternò. Tre giorni dedicati all'artigianato. Quelli che si svolgeranno grazie a Darci Festa dell'Artigianato. Questo evento dedicato appunto al settore dell'artigianato e anche dell'arte è promosso con il patrocino del Comune di Paternò dall'associazione socio-culturale Enosis. Oggi al quinto piano del Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione insieme ai componenti dell'associazione Enosis, insieme alla giunta comunale, insieme a una rappresentanza del Consiglio Comunale. Riccardo Longo è il presidente di Enosis che per tre giorni accenderà nuovamente i locali dell'Ex Macello. Sì, hai detto bene. Noi saremo per tre giorni all'Ex Macello con una mostra artigianale denominata Arci Festa dell'Artigianato. una mostra artigianale dove noi metteremo in campo tra i migliori artisti e artigiani locali per dare la possibilità appunto di far conoscere quello che è il linguaggio artistico, culturale e artigianale che si respira a Paternò. Noi siamo ricchi di artigiani, ricchi di arte, di cultura e che noi come associazione ci stiamo impegnando per rivalorizzare questi temi coinvolgendo non solo la collettività paternese ma anche e soprattutto i più giovani. Taglio del nastro venerdì prossimo alle 10. Sì, alle ore 10 del 16 novembre ci sarà il taglio del nastro in presenza delle istituzioni e quindi invitiamo la cittadinanza ad essere presente. Sindaco, valorizzare il lavoro delle associazioni è stato sempre un obiettivo della sua amministrazione e questa volta Enosis ha voluto porre l'accento sull'artigianato valorizzando peraltro anche uno degli immobili storici del centro paternese. Sì, un grande ringraziamento a questa associazione, l'associazione Enosis che veramente si sta spendendo alla grande nel nostro territorio. Questa è una tre giorni importante, una tre giorni all'ex macello, una tre giorni che oltre all'artigianato e ce ne abbiamo tanti artigiani per questo ancora ringrazio l'associazione perché mette in luce quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre qualità ma ci sarà tant'altro, ci saranno le scuole, ci saranno disgustazioni da parte dell'istituto alberghiero ci sarà la compagnia Saraceno con l'opera dei pupi, quindi ripercorriamo quelle che sono le nostre tradizioni. Una tre giorni intensa, una tre giorni piena di tanto, di tante cose, di tante qualità e di tante professionalità che ci sono nella nostra città e credo che sia il percorso giusto, questa è la disponibilità, il riferimento che deve essere l'amministrazione comunale verso le associazioni che si spendono giornalmente nella nostra città. Un altro momento importante e significativo per portare avanti quello che è la cultura, quello che è la storia, quelle che sono le tradizioni della nostra Quaternò. Saranno tre giorni intensi di cultura, spettacolo, animazione per bambini, ma non è solo questo il fatto, ma il fatto che amando questa città vogliamo dare un segnale, vogliamo trasmettere qualcosa a questa città, soprattutto ai nostri cari concittadini, che non sono sole, che c'è una realtà che viene ad aglietare i nostri momenti di tristezza, perché giustamente capisco che viviamo una realtà un po' pesante ancora nel nostro paese, sia economico che sia a livello sociale, però con le realtà associative bene o male un pochettino si dà un po' di serenità, si cerca di portare un po' di serenità. La nostra associazione sta facendo proprio questo, si sta scommettendo nel cercare di dare qualcosa alla società di oggi, alla nostra società paternese. L'estate di San Martino è arrivata anche in Sicilia come previsto, l'alta pressione ha scacciato via le nubi e si è instaurata su quasi tutta l'Italia, isole comprese. Sono le temperature miti, quindi nell'isola, ben sopra la media del periodo fra oggi e domani, la colonnina di Mercurio potrebbe arrivare anche a toccare i 20 gradi. Ma c'è il rovescio della medaglia, l'estate di San Martino durerà meno del previsto, le condizioni meteorologiche dovrebbero cambiare già da venerdì, quando in Sicilia sono previste piogge e venti freddi che fanno abbassare le tiepide temperature di questi giorni. E sabato e domenica ad Adrano due distinte iniziative di tutela ambientale al Meetup 5.1 Adrano, è stata affidata l'area verde di Piazza Alcide dei Gasperi nell'ambito del progetto Adotta un'aiuola. Sabato l'inaugurazione, iniziativa in programma domenica, vedrà impegnati invece gli attivisti del Meetup Amici di Beppe Grillo Adrano con alberi per il futuro. Sentiamo. Due distinte iniziative di tutela ambientale si svolgeranno sabato e domenica prossimi ad Adrano. Si comincia sabato mattina con il primo progetto di adozione del verde pubblico che era stato annunciato dall'amministrazione comunale Adanita. La prima adozione è stata messa in campo dal Meetup 5.1 Adrano del Movimento 5 Stelle che si occuperà delle aiuole di Piazza Alcide dei Gasperi, ubicata a lungo via Don Antonino Lamela. Si tratta di un'area di circa 700 metri quadrati con diverse tipologie di piante. Agli attivisti del Meetup 5.1 Adrano il Comune ha affidato l'area per gli interventi di manutenzione ordinaria. Sabato 17 novembre alle 10 e in programma l'inaugurazione agli intervenuti verrà offerto un piccolo omaggio per sensibilizzare i cittadini sul concetto degli orti domestici. L'iniziativa in programma domenica verrà impegnati invece gli attivisti del Meetup del Movimento 5 Stelle amici di Beppe Grillo Adrano. È stata denominata Alberi per il futuro. L'obiettivo è ridecorare via Roma Piazza Umberto e Corso Garibaldi di Adrano. Verranno raccolte offerte dalle 9 alle 13 per l'acquisto di alberelli e piantine. A parlare delle due iniziative ai nostri microfoni è stato l'assessore comunale Vincenzo Lucifora. Inoltre stamattina ha incontrato gli alunni del terzo circolo didattico Don Antonino Lamela nell'ambito degli incontri per sensibilizzare piccole e grandi sui temi della raccolta differenziata dei rifiuti. Ma sentiamo l'assessore Lucifora intanto sulle iniziative di sabato e domenica. Assessore, allora parliamo di queste iniziative di carattere ambientale previste per il fine settimana, sabato e domenica. Sì, allora l'amministrazione aveva già lanciato alcune iniziative. Ecco, alcuni incominciano a trovare sbocco. La prima è quella che sabato ci sarà l'inaugurazione della prima iuola che si adotta nella città. La seconda iniziativa invece sarà domenica, domenica mattina dalle 9 in poi, piantare un albero. L'amministrazione insieme a cittadini attivi di questa città hanno visto le fioriere, abbiamo considerato le fioriere che ci sono in via Roma, in piazza Umperto, magari qua qualcuno in via Aurelio Spambinato e Corso Garibaldi. E cercheremo di piantare anche lì alcuni alberelli, alcuni fiori per rendere più decoroso anche il centro della nostra città. Sempre parlando di iniziative di carattere ambientale, stamattina c'è stato un interessante incontro al Plesso Cappellone, terzo circolo didattico San Nicolò Politi. Insomma, continuano la sensibilizzazione dei cittadini sulla raccolta differenziata, soprattutto dei più piccoli. Stamattina siamo stati al Plesso Cappellone, insieme alla preside, insieme alle maestre, e abbiamo e stiamo continuando con la sensibilizzazione dei ragazzi. Abbiamo parlato di rifiuti, abbiamo parlato di differenziata, abbiamo visto che i ragazzi hanno una sensibilità rispetto a questa problematica veramente eccezionale, anche se devo dire che là già gli insegnanti avevano iniziato un loro percorso, quindi la presenza dell'amministrazione, perché anche allora abbiamo portato là i mastelli per fare la differenziata, e quindi tutte le aule stanno partecipando e speriamo con buoni frutti. Come sempre noi partiamo dai bambini per arrivare alle famiglie e quindi per cercare di innalzare sempre più quello che è la percentuale della differenziata nelle nostre città. E' quasi un'auto su sei in Sicilia dalla 2019, non potrebbe più circolare né a Roma né nelle regioni del nord. Il blocco dei diesel Euro 3 nella capitale, ma anche in Lombardia, Veneto e Piemonte, entrerà infatti in vigore a partire dal 2019. In Sicilia la situazione è allarmante, nonostante le auto diesel Euro 3 e inferiori stiano vivendo dunque grandi e progressive limitazioni alla circolazione in diverse zone d'Italia. In Sicilia sono ancora 564.591, quelle iscritte nel registro della motorizzazione civile corrispondenti al 17,2% delle vetture private. Passiamo a Bronte, consegnati alla ditta, giudicatari ai lavori del Polo Sportivo di Via Dalmazia avrà 530 giorni di tempo per completare l'impianto dove sarà possibile disputare incontri di calcio, tennis e volley. A Bronte sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione del Polo Sportivo di Via Dalmazia ad aver vinto la gara d'appalto una ditta catanese che adesso avrà 500 giorni di tempo, dunque un anno e mezzo circa, per completare i lavori. Il Polo di Via Dalmazia è un impianto storico sportivo brondese dove vengono praticati la pallavolo, il calcio e il tennis. Alla consegna dei lavori presenti il sindaco di Bronte Graziano Calanna, il vice sindaco Gaetano Messine, gli ingegneri Salvatore Basile, consulente del sindaco e Salvatore Caudullo, capo dell'ufficio tecnico del comune brontese. Per una serie di ragioni ci vediamo costretti a consegnare i lavori in via d'urgenza ed è una consegna parziale dei lavori. Parziale perché? Perché a Bronte per fortuna l'attività sportiva è molto viva, quindi abbiamo non solamente delle squadre di pallavolo che hanno raggiunto delle eccellenze e che quindi hanno un campionato in corso, ma anche la nostra squadra del Bronte Calcio ha un campionato in corso e anche il Bronte Calcio sta raggiungendo dei livelli di eccellenza. Quindi è chiaro che i lavori del Polo Sportivo vanno armonizzati con questi importanti campionati che ci sono in corso e sui quali le nostre squadre lavorano oramai da tempo. Quindi siamo qui oggi per la consegna in via d'urgenza proprio perché abbiamo dei termini da rispettare che ci ha imposto il decreto di finanziamento e siamo qui anche per prospettare questa consegna parziale così da evitare l'interruzione o comunque evitare maggiori danni alle attività sportive che vi sono in corso. Nello specifico si metterà in sicurezza la tribuna, questa centrale, con i lavori necessari di manutenzione straordinaria o mai necessari da tempo, la realizzazione dei servizi igienici a ridosso delle tribune così come richiede la normativa e poi la realizzazione di una ulteriore via di fuga sulla via Marziano. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione del campo, proprio dove siamo noi, non ci sarà previsto nessun altro tipo di lavoro perché il campo è in ottime condizioni. Saranno messe in sicurezza l'impianto di pubblica illuminazione, integrato qualora dovesse risultare inefficiente e poi per quanto riguarda il palazzetto invece c'è un adeguamento sia delle tribune all'interno che dei locali igienici e spogliatoi, separandoli fra ospiti e locali. È un percorso privilegiato o selezionato solo per la componente arbitrata. Ulteriori opere di manutenzione straordinaria saranno fatte negli spogliatoi attualmente del campo sportivo dove saranno integrati dei servizi basilari. Ed altre opere di adeguamento riguarderanno il campo da tennis con la realizzazione di un piccolo punto di ristoro e anche di reception. Quindi ripeto, i lavori interesseranno non il campo sportivo ma il polo nella sua complessità. Come diceva il sindaco, ci sono varie attività che si intrecciano e che si intersegono per cui la necessità di oggi avere l'impresa qui per consegnare urgentemente lavori ma parzialmente nel senso di scaglionarli con un cronoprogramma che non i va a intaccare quelle che sono le attività in corso, in atto con le varie squadre che il Comune sono presenti. Ebbene, è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.